Buonasera e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Sette denunciati per la violenta rissa fuori da un locale di Camucia, scatenatasi nella notte fra il 7 e l'8 maggio scorso. Oggi l'esito delle indagini dei carabinieri, uno dei partecipanti dovrà rispondere anche di lesioni personali e di danneggiamento. Chiara Sadotti. Botte, schiaffi ed urla. Una rissa furibonda e immortalata in queste immagini poi finite sui social. Adesso i presunti responsabili sono stati individuati e denunciati dai carabinieri a conclusione delle indagini. Il violento episodio nella notte tra il 7 e l'8 maggio scorso di fronte ad un esercizio commerciale di Camucia lungo la strada regionale 71. Una rissa scoppiata per futili motivi e sfociata a colpi di sedie, vassoie e chiazzotti. Senza motivo hanno iniziato a litigare così, hanno alzato le sedie, hanno buttato le sedie. Quella notte, nonostante l'intervento dei titolari per sedare la situazione, si scatenò in parapiglia. Siamo venuti a mangiare, hanno ordinato la roba e abbiamo portato la roba, dopo hanno buttato i vassoie e patatine così cibo a terra e mio babbo è andato da lui e ha detto perché stai buttando questo casino. Uno di loro si alza e lo dà a punio a mio babbo e inizia a litigare. E dopo avevo due ragazzi che lavorano qui e hanno iniziato a litigare con loro. I soggetti denunciati appartengono a varie nazionalità estere. Uno dei partecipanti della rissa è stato anche denunciato per il reato di lesioni personali e i danni di un gestore del locale per danneggiamento, avendo causato la rottura di una vetrata. È evaso dagli arresti domiciliari ma è stato rintracciato nei pressi di Arezzo a bordo di un treno diretto a Trieste. Così per un giovane di 26 anni è scattato l'arresto. Ad intercettarlo è stata la Polizia Ferroviaria del Veneto impegnata in controlli a bordo del convoglio. Dai primi accertamenti è emerso che il 26enne era destinatario di una nota di rintraccio per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, messa del mese scorso da parte delle GIP di Catania per la violazione degli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto per il reato di rapina. Scesi nello scaloretino, gli operatori della polfera hanno ricevuto l'ausilio di due equipaggi della sezione volanti della questura di Arezzo. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato trasferito nel carcere di Prato. Un 19enne è stato arrestato nella notte dopo aver compiuto un furto al punto vendita Canu di San Giovanni Valdarno. già più volte nel milino dei ladri da alcune settimane. Incidente sul lavoro a Pieve e Santo Stefano lungo la E45 tra Val Savignone e Canili. La centrale operativa del 118 è dovuta intervenire intorno alle ore 9.30 per soccorrere un operaio 23enne vittima di una caduta. Il ragazzo è stato trasportato in condizioni gravi. Gravi in codice 3 all'ospedale Fiorentino di Careggi. Sul posto sono intervenuti anche l'ambulanza infermierizzata di Pieve e Santo Stefano, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il servizio di prevenzione di igiene e sicurezza nelle luoghi di lavoro. PISL, ancora in fase di ricostruzione, la dinamica esatta del sinistro. L'operaio cittadino italiano era all'opera nel cantiere che si trova sul viadotto Tevere IV lungo il tratto appenninico toscano. Sembra che stesse lavorando al di sotto della campata quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. Ed è stato individuato l'autore di una discarica abusiva in località Brolio, scoperta solo poche settimane fa grazie alle indagini dei carabinieri di Castiglione Fiorentina. Si tratta di un abitante della vallata che via via depositava rifiuti lungo il torrente Mocchia. Chiara Sadotti. Una lavatrice che galleggiava nell'acqua e poi cumuli di arredi accatastati sulle sponde ma anche un aspirapolvere e bottiglie di plastica. Solamente un mese fa la scoperta di questa discarica abusiva in località Brolio ed oggi, dopo un'attenta indagine, i carabinieri di Castiglione Fiorentino assieme al comando della polizia municipale hanno individuato l'autore dell'abbandono. Si tratta di un cittadino italiano residente in Valdichiana amministratore unico di una ditta specializzata in attività di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali che dopo aver raccolto e trasportato il materiale lo ha abbandonato lungo il margine nell'alvio del corso d'acqua immagini che avevano fatto il giro del web suscitando non poca indignazione. L'uomo dovrà adesso rispondere del reatto di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi del testo unico ambiente in quanto titolare di impresa per aver effettuato un'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione. E adesso parliamo di emergenza abitativa. SOS Casa, oltre 4.000 famiglie dell'aretino, si troverebbero nella condizione di povertà assoluta. Le risorse sono insufficienti rispetto al fabbisogno, a dirlo è l'IRPET nell'ultimo rapporto sul disagio abitativo dello scorso marzo. A livello regionale ci sono circa 124 famiglie che cercano un'abitazione di queste, il 43%, circa 53.000, vive in povertà assoluta. In particolare ad Arezzo ci sono oltre 4.540 famiglie con un ISEE sotto i 16.000 euro. Tra queste ben 2077 vertono in quella che viene definita la povertà assoluta. Un problema quello dell'emergenza abitativa portato sui tavoli istituzionali da tempo da parte del Sunia, ma a detta del sindacato per ora è rimasta lettera morta. Non c'è un solo comune che abbia risposto. C'è la commissione dell'emergenza abitativa, ma non so quanto riesce a fare forza. Riusciamo a fare forza perché ora siamo sotto elezioni, quindi ci sono tutta una serie di problematiche. Io sono stata una di quelle che è andata a depositare personalmente, insieme alle altre colleghi, a depositare 45.000 firme proprio per richiedere degli aiuti riservati alla casa. Stiamo cercando anche di sensibilizzare un po' tutti gli enti per vedere se facciamo della solidarietà e quindi ci occupiamo di questo problema non solo come sindacato, ma anche quelli del terzo settore, per vedere se tutti quanti insieme riusciamo a far fronte a questo problema. Anche nel nostro territorio stiamo andando verso gli alloggi per il turismo, quindi se i proprietari mettono a disposizione i propri alloggi non in modo stabile per le famiglie, ma riservati al mondo turistico, chiaramente ci sarà sempre più sete di case. Inoltre c'è anche da dire che gli affitti sono molto alti, facendo conto che soprattutto le giovane coppie hanno dei lavori saltuari, quindi non una stabilità, anche questo rafforza questo senso di disagio. Si sta tornando alla coabitazione soprattutto tra gli stranieri con i disagi che ne conseguono. Quindi è un problema che va ripreso in mano perché bisogna farsene carico, non è un problema che se ne parla così tanto per parlare. E dopo il dietro fronte di ieri sera da parte del governo sul ritorno del redditometro andiamo a vedere a lato pratico come sarebbe stato attuato e con quali conseguenze. Ne parliamo con il commercialista David Faltoni. Intanto partiamo da una definizione, ma che cos'è il redditometro? È uno strumento d'accertamento sintetico del reddito presunto, di una capacità di spesa che poi di conseguenza determina un reddito presunto in capo ad un determinato soggetto. Di fatto possono essere anche imprenditori, ma è un accertamento fatto sulla capacità di spesa del singolo soggetto, quindi non degli enti neanche nell'attività professionale. Questo era nato, viene definito un po' il grande fratello fiscale perché praticamente mette insieme tutta una serie di dati per assurdo anche quello che viene postato nei social. Quindi chi ha la mania di farsi vedere magari alla guida di una Ferrari o negli idiot, eccetera, eccetera, in linea teorica può essere utilizzato poi anche per andare a verificare il soggetto e quindi come funziona. Fondamentalmente oggi poi con l'uso dell'intelligenza artificiale riescono a combinare una marea di dati, quindi dalle tessere fedeltà dei supermercati, dalle carte di credito, dalle comunicazioni che siamo obbligati a fare, ad esempio quando si va in un albergo di dare i dati oppure chi prenota un posto per la barca o per lo yacht, non note, deve dare i propri dati. C'è la verifica con il reddito dichiarato. E abbiamo fatto un riscontro e quindi se il tuo reddito dichiarato giustifica questa capacità di spesa, sei a posto. Se hai il reddito zero o il reddito di 20.000 euro, 30.000 euro e ti fai una vacanza a Cortina, che solo quella costa 30.000 euro, logicamente non deve avere un modello unico corposo perché altrimenti non si capisce come fai. È uno strumento di giustizia fiscale e mi dispiace che non venga portata avanti perché io credo che chi è ricco e vive da ricco, e sono tanti perché non ce lo dimentichi, si vede tutti e tocchiamo con mano, perché anche nella nostra realtà abbiamo dei negozi di lusso che lavorano tantissimo, abbiamo tutte le concessionarie delle auto di lusso e a momenti non si trova più le concessionarie delle utilitarie ma abbiamo le concessionarie di auto di lusso. Quindi è una società oramai piena di disuguaglianze per quello che dicevo prima, perché oggi per una buona parte della popolazione è facile nascondere i propri redditi e quindi in qualche modo vanno colpiti, altrimenti bisogna spostare la tassazione e quindi spostare la tassazione solo sui consumi e quindi togliere l'imposta sul reddito delle persone fisiche e quindi si sposta tutto sui consumi o altre forme che in Europa ci stanno anche pensando, perché questo tipo di tassazione sul reddito prodotto nel nostro paese, quindi la residenza eccetera eccetera, ci sta dimostrando che le tasse le paghiamo solo in pochi. Il Comune di Arezzo attraverso il gestore 6 Toscana ha dato avvio negli ultimi anni alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti con un duplice obiettivo incrementare la qualità e la quantità della differenziata lungo un percorso che ha portato negli ultimi anni a un aumento del 15% e a un più 60% rilevato lo scorso aprile e garantire il decoro urbano e la viabilità della città. Adesso entra nel vivo il completamento della trasformazione delle zone industriali della città con un'ulteriore valutazione dei fabbisogni è stato consegnato ad ogni utenza non domestica del materiale informativo al servizio di raccolta a loro disposizione in questi giorni. Saranno progressivamente rimosse tutte le attuali postazioni stradali dopodiché le suddette utenze dovranno soffrire esclusivamente del servizio loro dedicato utilizzando quanto consegnato e secondo il calendario di conferimento per ogni tipologia di rifiuto. Per qualsiasi chiarimento scrivere a attivazioni.arezzo.it se toscana.it oppure chiamare il numero verde 800 127 484. E cambiamo argomento le donne che soffrono di alopece avranno un contributo da parte della regione per l'acquisto di parrucche la giunta regionale rinnova infatti la misura di sostegno presente dal 2006 e che all'inizio era riservata solo a donne in cura per patologie oncologiche in seguito è stesa anche a chi soffre di altre malattie. Dal 2013 al 2023 sono state quasi 20.000 le donne che hanno beneficiato del contributo della regione toscana per l'acquisto di parrucche. Con la delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute viene confermato il contributo di 300 euro all'anno per chi soffre di alopecia temporanea ed utilizza la parrucca per alcuni mesi e di 900 euro per chi sarà costretta a farne uso in modo continuativo anche per tutta la vita. Rimaniamo nell'ambito della salute perché parliamo delle ricerche e delle iniziative delle nostre farmacie e prevenzione e benessere unite nella nuova iniziativa di educazione alla salute delle farmacie comunali di Arezzo da sabato 25 maggio a sabato 8 giugno sono in programma due settimane di consulenze e approfondimenti sulla corretta esposizione solare che, ospitate dalle otto farmacie della città e delle frazioni, saranno promosse per sensibilizzare verso le piccole attenzioni necessarie per prendersi cura della propria pelle in vista della stagione più calda dell'anno. Benessere al sole è il nome della campagna di informazione che inserita all'interno della rassegna maggio-mese della prevenzione del melanoma è motivata dalla volontà di stimolare i cittadini a rivolgersi ai farmacisti per ottenere consigli e suggerimenti personalizzati per prevenire patologie dovute a una protezione non adeguata. E andiamo a Rondine, cittadella della pace, la cultura della pace in una tre giorni ricca di eventi con lo Utopic Fest promosso da Rondine all'apertura la marcia della pace di 10 km. Chiara Sedotti La fiducia è un tema di tutti gli uomini e di tutte le donne di ogni tempo direi in questo tempo certamente anche molto in crisi. Fiducia è la parola chiave dell'ottava edizione di Utopic Fest il festival internazionale sul conflitto che si svolgerà a Rondine cittadella della pace. Da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno tre giornate che si aprono con la marcia della pace lunga 10 km che da Rezzo conduce al borgo medievale. È un cammino che vuole abbracciare i giovani di Rondine questi giovani coraggiosi che decidono di non darsi all'odio perché ne avrebbero anche delle ragioni ma costruire possibili dialoghi e amicizie ritenute impossibili. 30 gli eventi in programma con 50 ospiti e migliaia di giovani che potranno incontrare Claudio Visio Pif, Michele Serra Peratunz Daniele Mencarelli e Gherardo Colombo oltre a tanti altri rappresentanti del mondo della cultura del cinema dell'informazione del mondo diplomatico e dell'economia. Quindi ci saranno dei momenti più accademici per il mondo accademico dei ricercatori anche universitari dei momenti per le famiglie per i bambini per trasferire anche il messaggio dell'accettazione del riconoscimento delle differenze perché non spaventi ci saranno tutta una serie di laboratori anche teatrali sportivi fatti proprio per i giovani e quello del cinema ovviamente sarà un momento anche di dibattito aperto a tutti quanti per riuscire a capire anche come il cinema sia allo specchio dei conflitti della società. Utopic Fest vede anche la partecipazione dell'ufficio scolastico regionale che ha invitato tutti i giovani della Toscana a vivere queste tre giornate mettendosi in gioco. Anche per il momento storico che stiamo vivendo è importante comunque ristabilire questo momento di fiducia con le giovani generazioni ed educare al confronto e al dialogo e a una cultura della pace. Sarà una festa da vivere anche assieme a Liliana Segre nell'inaugurazione dell'Arena di Janin dedicata alla memoria di quell'amica che non salutò prima che fosse mandata alla Camera Gass. E speriamo che adesso venga che venga e che sia la grande occasione per conoscere Rondi e tanti ancora non sono mai venuti non ci sono porte non ci sono orari c'è un programma molto intenso dove vivere tre giorni appassionanti e disarmanti. E andiamo agli eventi e alle iniziative culturali cominciando da sabato primo giugno alle ore 11 al Museo Nazionale d'Arte Medievale Moderna di Arezzo dove si terrà la presentazione del restauro della terracotta in vetriata raffigurante San Francesco d'Assisi che riceve le stimmate proveniente dal Convento Francescano di Sargiano attribuita a Girolamo della Robbia e datata fra il 1500 e 1510. Per l'occasione interverranno Stefano Casciu direttore regionale dei Musei Nazionali Toscana Luisa Berretti direttrice del MNAM Anna Ottavi presidente di Innerwell Arezzo e Antonella Gallorini Calvelli presidente di Innerwell Arezzo Toscana Europea e passiamo invece a Leonardo Leonardeschi e Vasari disegni pietra rossa in mostra al castello sportesco di Milano e questo è il titolo dell'appuntamento di venerdì 24 maggio alle ore 18 presso la sala conferenze della Biblioteca Cittaderezzo la curatrice Alessandra Baroni dialogherà con Luca Fiorentino co-curatore insieme al direttore del istituto olandese universitario di storia dell'arte di Firenze Kvackenstein la presentazione sarà intervallata dalle letture di alcuni passi delle vite di Alessandra Bedino e ancora un weekend ricco di appuntamenti a Cortona sabato 25 maggio alle ore 21.15 con Amore senza cuore al teatro Luca Signorelli la serata è organizzata dal gruppo Medici e Musica con il contributo del comune di Cortona il costo del biglietto è di 15 euro a persona il corpo di ballo è composto da Elena Petruccioli Elisabetta Farsetti Emma Sommella e Stella Berneschi le voci recitanti saranno quelli di Giuliana Bianchi e Marco Sgrevi domenica 26 maggio invece camminata solidale al parco della Cerventosa il ritrovo è alle ore 10 al ristorante Porto la camminata ha una lunghezza di circa 8 chilometri ed è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente al sostegno della ricerca la partecipazione ha un costo di 10 euro a persona e ancora musica arte letteratura e sapori per la decima edizione della Chianina ciclo storica la manifestazione che si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 maggio a Marciano della Chiana con un ricco programma di iniziative dedicate al ciclismo storico tra queste un giro dolce tra i paesaggi e strade bianche della vallata impreziosito dalla visita alla fattoria granducale di Fontarronco la terza edizione della Chianina dei bambini la presentazione del libro Uomini forti Uomini fragili su strade maledette di Alessio Stefano Berti e la premiazione del concorso Chianina Comics e concludiamo con lo sport parliamo dell'Arezzo dopo l'addio anche da parte del tecnico dell'Arezzo Paolo Indiani continua la serie di nomi dei tecnici che potrebbero approdare alla panchina a Maranto reduce dalla parentesi alla Cosenza dove è stato esonerato l'11 marzo scorso Fabio Caserta è uno dei più accreditati nelle ultime ore ad occupare il posto di allenatore della prima squadra dell'Arezzo il tecnico sarebbe pronto a tornare a cimentarsi con la serie C ex tecnico del Perugia Caserta è finito in cima la lista dei papabili a questo ruolo il direttore sportivo Nello Cutolo avrebbe individuato in lui il perfetto sostituto di Paolo Indiani ovviamente è un'operazione tutt'altro che facile visto che Caserta vorrebbe rimanere in serie B ed è inoltre questa questo nome di questo calibro a richiedere un importante impegno sicuramente economico o quantomeno un contratto biennale altri nomi che circolano in questi giorni sono anche quello di Emanuele Troise ed Enrico Barillari bene con questo veramente è tutto grazie per averci seguito a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV Grazie per aver guardato